Buongiorno cari concittadini, finalmente domenica e lunedì abbiamo aperto le porte a un evento pensato già tre anni fa e diciamo programmato per andare in prima edizione nel 2020, quindi fermo per due anni per il Covid. Sto parlando ovviamente di Fermento Emilia. Fermento Emilia una manifestazione che cercava, ha cercato di dare la possibilità alla cultura da un lato e alle attività commerciali dall'alto del territorio di coniugarsi assieme in un evento che potesse essere il primo evento, anzi vorrei che fosse il primo evento di una lunga serie di eventi che proprio porta a coniugare assieme questi due elementi all'interno della nostra struttura storica più importante che è il Castello e a latere anche Casa Cavezzi. Queste due strutture possono essere effettivamente un elemento di lancio, di rilancio o comunque di proposta in tal senso estremamente importante ed estremamente utile per rilanciare tutto il nostro territorio. Fermento Emilia è stata una manifestazione, mi risulta partecipata in modo veramente felice ma soprattutto numeroso da tutta una popolazione giovanile non solo che veniva anche da altre zone e ha ricevuto le felicitazioni a me personalmente dall'assessore regionale Mammi il quale gentilmente ha partecipato a questa manifestazione. Devo dire un grazie particolare a tutti coloro che vi hanno partecipato a partire da Matteo Garimberti che è stato l'organizzatore, i funzionari del comune che hanno con lui lavorato, Montecchio Sicura che ha dato un contributo fondamentale e ultimi ma non ultimi ovviamente gli sponsor. Sponsor sto parlando di Italsugaro che come azienda produttrice di tappi famosa in tutta l'Italia e non solo ha dato un contributo e ha portato il contributo di Montecchio alla enologia e la CSF pure che produce pompe proprio nel settore dell'enologia e ha ribadito con la sua presenza e con il suo aiuto l'importanza di questa azienda nel nostro territorio non solo. E infine il caseificio di Villaiola, il caseificio Villaiola della famiglia Bertani il quale ha messo a disposizione appunto l'assaggio del parmigiano reggiano l'oro del territorio che è servito proprio da chiudere assieme al contributo fondamentale dei fornai montecchiesi a chiudere diciamo così l'evento. Io devo dire grazie a tutti, sono dispiaciuto di non essere stato presente ma purtroppo questa volta il covid non ha impedito la manifestazione ma ha impedito a me di parteciparvi ma vi assicuro che dal prossimo anno non ne mancherò una e sarà la manifestazione, una delle manifestazioni che si ripeteranno periodicamente a Montecchio nella nostra sede del castello. Buona giornata. Grazie a tutti.